L'Als di Pescara ha attivato un servizio di sostegno psicologico per la cittadinanza in questo particolare periodo di emergenza sanitaria. Dottor Di Pietrantonio, lei gestirà questo team di psicologi che saranno a disposizione dei cittadini pescaresi. Vogliamo spiegare come funzionerà questo servizio? Sì, innanzitutto mi preme di sottolineare il numero di telefono che è 085 42 52 555, questo è il numero di telefono a cui chiunque può telefonare per chiedere un aiuto, un sostegno psicologico. È un servizio che è stato istituito dall'Als di Pescara a seguito di tutta una serie di richieste da parte di cittadini che evidentemente impreda a crisi di ansia, di panico, angoscia, depressione legate a questo periodo che stiamo attraversando, che stiamo vivendo, che è quello appunto dell'epidemia, pandemia, coronavirus. È un servizio molto importante perché ci sono purtroppo tutta una serie di situazioni anche legate soprattutto in questa fase all'isolamento, al distanziamento sociale che tutti stiamo vivendo e poi anche all'incertezza legata all'aspetto economico. Ripeto il numero di telefono 085 42 52 555 e poi approfitto di questa occasione per ribadire che dobbiamo ancora stare tutti a casa. Le prossime settimane, le prossime almeno due settimane saranno le settimane più dure, più pesanti sicuramente da sopportare, ma saranno quelle più importanti per sconfiggere questo maledetto virus. Io credo che tutti insieme presto ne usciremo e poi torneremo finalmente alla vita normale, in modo graduale, ma torneremo alla vita normale e quindi, come si suol dire, a riabbracciarci tutti.